Per la prima volta in Puglia a Grottaglia organizzeremo un evento internazionale che metterà in contatto start-up, piccole e medie imprese pugliesi, dei comparti aeronautico e spaziale con il mondo finanziario ed il sistema dei fondi specializzati negli investimenti di settore. Lo ha annunciato l'assessore allo sviluppo economico Mino Borracino a Parigi nella giornata di apertura dell'International Paris Air Show al presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita allo stand istituzionale della Regione Puglia e ai giornalisti ed operatori specializzati presenti all'incontro. Il Premier ha fatto sapere Borracino e è rimasto positivamente impressionato da quello che stiamo facendo in Puglia insieme con il distretto dell'Aerospazio e in modo particolare per l'iniziativa che stiamo organizzando a Grottaglia. L'evento, ha spiegato l'assessore, si svolgerà l'anno prossimo in primavera a Grottaglia dove si concentrano attività industriali attorno all'aeroporto che vanta la più grande pista di atterraggio d'Europa. La presenza della Regione Puglia a Parigi ed il contatto con tante piccole e medie imprese ci sta permettendo di immaginare l'evento del 2020 diviso in due momenti. Una prima parte caratterizzata da seminari su tematiche legate all'evoluzione tecnologica e all'analisi del valore aggiunto di una start-up che cresce e si consolida sul mercato. In questa prima parte verranno illustrati gli strumenti, i ruoli e le opportunità che ICE, Regione Puglia con Puglia Sviluppo e DTA mettono a disposizione per agevolare il processo di crescita di questo tipo di aziende. Seguiranno incontri B2B e singole presentazioni delle start-up che avranno a disposizione piccoli spazi espositivi dove presentare idee e prodotti riferiti in particolare alle tecnologie senza pilota. Sarà il primo passo verso un grande evento espositivo dedicato alle tecnologie un-made che si terrà nel 2021.